Compartigianato Unine è presente a ESO Fiere con il progetto BREF che è rappresentato nello stand che ci ospita. Questo è un progetto europeo che è porto a cercare di far ottenere alle nostre piccole imprese delle nuove opportunità nell'ambito ambientale, sostenibilità ed energia. La cosa innovativa, se vogliamo, di questo progetto è la partecipazione dal basso. Durante tutto il fine settimana noi raccoglieremo tramite dei personali delle indicazioni che ci vengono fornite dalle nostre imprese artigiane, quindi su tutto quello che loro già fanno come nell'ambito della sostenibilità e quello che invece vorrebbero o auspicherebbero di poter fare. Una volta raccolte queste informazioni il progetto è un work in progress e lavorerà delle possibili indicazioni per poter favorire le piccole imprese anche a livello di collaborazione trasfrontaliera. Quindi queste idee nascono qui in Friuli però saranno poi esportate e scambiate anche con i paesi partner del progetto.